Saluti a tutti e bentornati in Anonimotivo Con questa nuova stagione cambierà tutto Tutto quello che conoscete potrebbe non essere più lo stesso Sono stati in possesso questi mesi i documenti classificati confidenziali Che cambieranno la percezione del nostro ambiente e del nostro sistema Quello che accadrà in futuro su questo canale Sarà la totale libertà di informazioni senza vincoli fin quanto possibile Il 9 ottobre comincerà qualcosa di grande Intanto iscrivetevi al nuovo gruppo Facebook Dove potrete postare qualunque cosa inerente ad Anonimotivo Spesso ci saranno buoni ed intriganti Prendere i vostri argomenti, le vostre fotografie, i vostri video E li porterò immediatamente sul canale Il 14 marzo del 2019 ricevo un documento via mail ad un vecchio collega E inerente al National Investigation Committee on a View of Fenomena Il NICAP che tratta tutta la documentistica rilasciata ai Militari Air Force degli Stati Uniti negli anni 70 Si tratta incredibilmente di una cosa pazzesca ve lo posso garantire Di questo argomento ci sarà un video che è giù in preparazione L'unico modo che gli umani hanno trovato da andare avanti E lasciarsi qualcosa alle spalle Condividete il video, lasciate un like se vi è interessato E iscrivetevi se non l'avete ancora fatto per non perdere più l'unico Ci vediamo nel prossimo video Ci vediamo nel prossimo video